Ciao a tutti amici, raccolta di insalata, cicoria e carciofi, guardate che belli, freschi dall'orto sotto casa, bellissimi, piccoli e grossi. Questi arroccamenti di situazioni, dove ne esce sempre vitorioso. Lei è dimenticato dei miei, comunque, lei nasce da tutti gli eventi artistici ed è per quello che noi ci siamo anche conosciuti. Nel 2019 vuoi raccontare quello che racconta di... Ciao a tutti, buon inizio settimana. Stavamo organizzando per l'aeroporto di Milano con un brano, è scritto questo brano sinfonico che si chiama...